Ah che c'è il covo che sta prendendo il sole lì eh, anche se c'è la luna, girati guarda Simone? No Simone, Simone che succede? Non è il momento di fare la cacca qui, Simone? Simone no, no, no Simone no, perché l'hai fatto Simone? E sono Pazzox e ben ritrovato in questo nuovissimo video Dopo tantissimo tempo è tornata la Revolver Purtroppo non è proprio quella Revolver, cioè la classica È leggermente diversa e smira un pochino di più Ma comunque oggi insieme al caro Monkey Simon Insieme a lui cercheremo di fare la challenge di solo Revolver Ma questa volta senza costruzioni Quindi già è difficile la challenge di suo In più non potrò coprirmi in caso di fucile a pompa Cecchini e così via Ma perché mi trascini sempre in mezzo a ste cose pericolose? Ma è un video safe, qualcosa di tranquillo No, è bella la roba pericolosa, la gente piace il pericolo Simone Ma ovviamente, come state vedendo anche da questa piccola clip Questo video sarà realizzato unicamente con mouse e tastiera Così, così come al solito ad ogni challenge Non ci sarà l'espertone Eh ma col controller, usi la mira assistita? Quando non l'ho mai usata col controller Beh però se tu lo dici è banana Inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite Se vuoi supportare questo creatore Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video E tantissime nuove stories Sei pronto Simone? Solo Revolver e mi raccomando Il problema di questa challenge è che la Revolver è molto difficile da trovare Ma veramente tanto Quindi neanche questa Gennaro? No Simone No Basta Ma che c'è il covo che sta prendendo il sole lì Anche se c'è la luna Girati, guarda È proprio sul tappetino È vero Oh, vai via dal mio tappetino Erano in mille, ma come? Sono salito di livello Piatì le granate quelle lì Che ti fanno Oh, Revolver trovata Yes A favore Oh, trovi due, Gennaro Oh, buono Fammi vedere In caso me ne dai una in più No, Simone No, no, no Non mi risultano essere delle Revolver Uffa Bravo, Simone Però così inquini il mare Adesso, per non inquinare il mare, te le mangi Come le mangio? Eh sì Ma aspetta, uno, le raccogli, le fai a ripescare 31 31 31 31 Gennaro, ma io sono attrezzato, mica so Simone? No, Simone Simone, che succede? Non è il momento di fare la cacca qui Simone? Simone, no No, no Simone No Simone, non hai idea di cosa hai fatto Cosa ho fatto? Hai fatto scivolando la cacca sull'urcello Ah Aspetta e mi faccio una dormita, però Come, Simone? Non è il momento Oh Riposo importante Scusi, eh Uh, l'ho aiutato Ce l'ho il biscottino? Bello, bello, bello Uh Eh, si è riattivato un sovrascudo Eh no, però che arriva l'altro Scusi Scusi Vai, costruisci Dai, amico Uh Bella Ma ora che mi massacrano No, Gennaro Tu devi credere nel cuore delle carte Devi credere in tutto ciò che Eh, riguarda l'amicizia L'amore Eh, la fraternità Tu, tutto Tutti i buoni valori Credici, Gennaro Ho creduto, Simone Sono felice di averci creduto Hai visto? Credetici, ragazzi Preso No No, Windows Mi si è attivato Ah No, Windows No Voi non lo vedete Ma guardate che fastidio Ogni volta che io vado giù col mouse Non volendo Compare la finestrella di Windows E io clicco Google Chrome O qualcos'altro Ah Ok, ragazzi Ho risolto Posso andare in giù Quante volte voglio Con Windows Dovevo semplicemente bloccare La barra applicazioni Un casino C'è gente, c'è gente C'è gente, c'è gente Corri, corri, corri Che famo? No, Simone No, perché l'hai fatto? Simone Preso Ragazzi, però Sa revolver E' imbarazzante E' lì, e' lì, e' lì Vabbè Ok, preso Ahia, si chiama Che combo Arriva un signore Preso Oh, ho preso Alla cieca, eh Che combo 120 l'ho fatto Meno male Mi ha sparato qualcuno Mi spara uno vicino a fondazione 120 morto Morta Grazie, merci Il delibugol Guarda Come fa stare in piedi? Gennaro E' il delibugol divino C'è una revolver Simone Vieni qua, vieni qua Eh, che cavolo Ti pareva che arrivava sempre nel momento sbagliato Eccola Vai, 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 vai Grincia, ovviamente We, 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 we Da dove, da dove, da dove Come ci vedi? Da dietro, da dietro, da dietro Preso, preso Ho l'unica Mi carammato Simone Entragli e sparargli Con la mitragliatrice Potrebbe far saltare Il carammato Con il C4 Ho preso uno molte volte Con il 33 Diciamo che questa challenge Ragazzi È molto difficile Perché toglie il 33 Alla volta E togliere solo il sovrascudo Quindi è molto Un malus Devi far sempre testa Se vuoi avere Proprio la sicurezza Aspetta il compagno Pizziamo al compagno 33 Eccolo Via, 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 via Scudo Tanta roba 33 Sono gli ultimi due Dai, stammi lontano Stammi lontano Vai Lo faccio, lo faccio Non ci arrivo Non ci arrivo Preso 120 E mori Non c'ho vita Miam E me frega la corona Manca l'ultimo Simone È nascosto Come tutti Lo so io Aspetta C'è spuglio? No Non pare Andate a curiosare No Eccolo Colpito Colpito Penso a me Preso Mamma mia Andate al cavallo Uff È stata dura Pazzoide È stata veramente dura Piccolo consiglio Evitate quest'arma Da grande amante La peggiore del gioco Da grande amante Della revolver Purtroppo Non è la stessa Di tanto tempo fa È molto Molto nerfata E Ho giocato Col mouse Spero che questo video Vi sia piaciuto Questa challenge Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Di questa nuova revolver E noi Come al solito Ci vediamo Condorcissimo E carnissimo E carnissimo Eh eh EHA Che va